Buongiorno. Buongiorno. Salve. Prego. Cercavo per un regalo delle tazze. Sì. Abbiamo questo tipo di tazze qui. Ok. Nel caso ne abbiamo anche altre di negozi. Ah. Ma una domanda. Sono usate. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sembra che sei già venuto in questa fumetteria. Vedo più volte. Forse lo ricordo anche io. Comunque sono venuto per acquistare delle carte di Yu-Gi-Oh. Sì. Di bustine. Sì. Di bustine perché sono intanto a fare i tech. Se oggi mi sei fortunato. Prego. Ok. Belle. Quanto sono? Quelle che sono 8. Sono in promozione. Se vuoi. Qui in negozio giochiamo. Ora ci sono anche i ragazzi che si stanno organizzando per fare un torneo. Se vuoi. Puoi giocare anche adesso. Buongiorno. 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 Sì. Buongiorno il video. Ah. Mi ho fatto fare un sbadiglio anche a me. Salve. Salve. Tutto a posto? Sì. Allora non si vede. Lui lo può fare Davide. E siamo qua in questo nuovo video come sempre per ricordarvi. Oltre che arriva sempre un sacco di roba. Oggi in particolare action figure. Funko. Peluche. Un sacco di cose fighe. Gadget. Allora questo diciamo il video. Quegli bonus. Sì. Quelli che ci piacciono. Che piacciono a tutti. Che escono per il venerdì. Il sacco. C'erano chi deve cacciare i soldi. Esatto. Piaciono a tutti per vedere. Io ho alcune cose a noi. Perché ordinarli è bello. Alcune cose a comprare di quello che ho visto. Sì. Tutti i vani. I meme raga. Con corso in corso. Meme. Tornei. Promozioni per tutti i casellanti. Sì. Questo si esce domenica. Perciò tutta la settimana. Sì. Tutta la settimana. Sì. Tutta la settimana. la domenica. Tutti i casellanti. Quando devono fare i timbri. Avranno il doppio dei timbri. 10 euro. Due timbri. Solo per quella settimana. E solo per i casellanti. Per il ritiro delle caselle. Non vale che tu vieni. Ti dici. Mettimi 300 euro di roba in casella. E poi. Nel timbrio. Insomma. Se ti conosco. Anzi. Hai già tempo. Da mo. Al 21. Sì. Ma pure per ordinare. Sì. E far sì che la casella. Non vale che una persona da fuori. Che è solo per approfittare. Perciò. Giusto. Tutte le varie scale. Tutte le varie regole. Solo per gli anti-scambo. Poi nel principio. Alla fine. Nella realtà. Capito. Noi. Siamo disponibilissimi. Ci mettiamo a squadra. Con tutti. Però per evitare. Che certe persone. Danneggiano. Invece. Quelli proprio appassionati. Che vogliono. Sì. Che per l'altro. Quello. Succede. Eh. Le vale il pane. Esatto. Allora. Non è che interessa. A uno vale l'altro. Nel senso. Comercialmente. Poi. Però. Comunque. Manteniamo. La relazione. Rapporti. Con persone. Che vengono. A differenza. Di altri. Che. Perciò. Sgaggiando. La bomba. Del. Del fumetto. Cioè. Del mondo fumettistico. Insieme a quello dei giorni di gatto. Eh. Sì. 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 Quando ti prendi 10 euro di buono? Sì. 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 Qua. Inoltre. Il nostro sto per morire. No. A me. Eh. E. No. Allora. La luce. Mi sa che per una volta. Una volta. Puoi soffrire della casella. Cioè. Sì. Vabbè. Sì. Una settimana. Una volta. Vabbè. Che devi essere. Sì. 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 Un saluto per fuori. Per fuori anche di più. Perché. Eh. No. Di passi una volta. Per la rara. Sì. Cazzo. 6.000. un abbraccio tutti e tre un abbraccio mi regali così i buoni no, non li faccio come te, se mi frega più di te se ne vedi altro ok, andiamo vediamo cosa iniziamo? con la parte che è gentistica le protezioni per i fanco bellissimo dato che tutti vogliono collezionare i fanco questo è il modo più economico per poterli qualità prezzo gli altri sono proibitivi considerato che devi pagare il doppio del pop o il qualcosa del pop no, per averne uno paghi il doppio del pop per avere la copertura invece con questo 10 però almeno protegge dei graffi delle posizioni poi no si ce l'ho uno vediamo scopato vai bellissimo Mimikyu nella versione pokemon select queste sono poco le figure di pokemon non sono quelle pulco oh comunque no, è geniale poi è scarabocchiato ma questo è un pikachu usb no è un è un pikachu cioè che cos'è praticamente è un po' lui non è pikachu è un pokemon hanno fatto un concorso anche loro è un pokemon spettro che siccome è indispertito a lei oh sto spiegando questo è un pokemon spettro che è indispertito dal fatto che pikachu è così piacente al genere pokemon si è diciamo costruito il suo vestito di pikachu o comunque l'è stato dato ed è scopribile ci sono togli da sotto dovresti prendere l'incubi essendo un po' come uno spettro mamma mia quante pazze fighe comunque si sa ok si avanti raccoglitore flexfolio 360 comunque la mia opinione che pokemon ha fatto un concorso uno ha preso tipo il figlio di quello ma no ma in realtà non è la prima volta no il creatore di facebook ha fatto il like se sposti la lingua a passo hai capito no ho capito lo so è una battuta mi ha tolto che si faccia i cartoni suoni questo era un altro meme i cartoni animati e niente e vivi così buttato come se non ci fosse un domani e poi per ultimo nella scatola ma non per ultima importanza raw comunque bellissimo e poi bravo fighizio ce l'ho esposto quello personale lo potete vedere è troppo bello dato che siamo a poco hey giro un breakable fortissimo e giro un breakable yes hey giro un breakable se basta la base con il tuo sani a blade ah fortissima mi porto il corpo questo è il suo poi c'è wonder woman wonder woman bella la sua versione wonder woman bella la sua versione e dead bull quantissimo è bella andare in giro di black lantern lì sotto la mania black black lantern lì sotto vabbè è bellissimo però facciamo così è bello quello che avevamo sì 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 lo stesso lo stesso sì sì quello che avevamo sì è bello l'ha fermato il nostro cameraman Kylo Ren Kylo Ren con la Supreme Leader sulla navicella sì sì cacciamo le pompe sì dai cacci cacci e cacci facciamo l'azione di spazio perché sono troppe sono troppe sono troppe un breakable sì quindi un breakable non c'è la palla però un breakable perché ci bagliamo non lo so non lo so ok presidio oh 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 flareon flareon battle reni questo lo è vabbè però flareon no no giolteon giolteon cicorita e abra va a caso tre in uno sai dai 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 oh mi ricordo scorbani nella nella megaball oh non sei abbastanza veloce non sei abbastanza veloce la megaball la megaball oh ash con pikachu bella oh oh gengar rivoluzione doppia eeeh piesta 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 bellissima ciao e comunque vi parlo che questo questi prodotti comunque stanno questi sono questi 15 e l'oggi vabbè fa un prodotto un po' che mora si è voluta la cittura dove puoi attaccare le poche bolle fichissimo e molte di queste escono le bolle vuole stare così in fumetteria dove si vede io faccio il cosplay di ascia è facile il cappello è la cosa è la girova 1 charmander charmander no 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 va bene charmander bellissimo bellissimo il cappello di snorlax ma è geniale poi flash bellissimo chi è? che non ci vede? collect band ah è fatto ma beyond bravissimo batman beyond aspettavo beyond eh bellissimo chi è? eh la trauto stavo dicendo ah Zrael asrael batman arnold fortissimo arnold 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 batman arnold asmort 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 no sta smontando ok lo ce l'aspetta di di kifondoro no quello allora non mi fate dire cosa strane se è la spalla di kifondoro è troppo piccola Quello è il coltello che butta Bellatrix e Le Strange per uccidere... E' la Madonna Wonder Woman Di che film? E' la replica Ah beh puoi essere La replica E' la spada che uccide il dio Ah è vero, quella è la spada su Cioè è proprio la spada quella divina Quella che hanno... Le valchine E' sopra scritto sono Manuola Che cazzo è Vabbè Ci vediamo Ormai Si può fare tutti i 15 anni Bellissimo E' più corta dell'immagine però Aspetta Ah è vero Grazie mille a tutti Per la visione Ci vediamo al prossimo video Bella Zomax